Steph, Steph, vieni! Oggi dobbiamo fare una mappa bellissima su G-Modoro, vedo l'ora di fartela vedere, vieni! Vieni, devi entrare qui! Fere! Steph, devi entrare nell'ascensore! Fere, io negli ascensori non ci entro! Steph, ma se non entri non possiamo giocare! Non c'è la modalità con le scale? No, purtroppo no, è un ascensore, un ascensore molto pazzo, e tu devi entrare dentro! Se non entri tu non possiamo neanche iniziare, dai! Fere, mi spiace, io vado a fare un nascondino! Steph, fai l'uomo ed entra dentro quell'accidente di ascensore! Tra le ascensore e serpenti, e se ci sono i serpenti in ascensore è ancora peggio, Fere! Potrebbero esserci, potrebbero! Appunto! E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki! E io sono Steph, e che stai giocando G-Mod! E più nello specifico, oggi giocheremo a G-Mod Elevator, che è una modalità che tantissimi di voi conosceranno su Roblox, ma ovviamente è stata inventata proprio qui su G-Mod! Purtroppo! E abbiamo deciso di provare la versione originale! Perché purtroppo? Perché non mi piacciono gli ascensori, Fere! No, dai, è bellissimo! Io adoro sto tipo di mappe, mi piace vedere cosa ci sarà, quindi non vedo l'ora di iniziare! Allora, voglio giusto dire che mi divertirò anche io, perché io dovrò stare in un ascensore, ma Fere si dovrà subire un po' di cosettine paurose ora! Un po' come quelle su Roblox, che appunto sono parecchio soft, non è che fanno troppo paura, però ci sono, ci sarà un po' di tutto, immagina sorprese, cose brutte, cose belle, cose negative! Sì, non abbiamo provato troppo per non avere, diciamo, spoiler, quindi vediamo i spoiler! 3, 2, 1, iniziamo! 3, 2, 1, e adesso si chiude l'ascensore! Ok! 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 Allora, abbiamo un timer lì a destra? Mi sa di no! Prima o poi si aprirà questa bellissima porta, quindi c'è anche la sorpresa che non sai quando si aprirà! Fere? Mi stavo... Spike! Mi sono sbagliato! Ciao Spike, si può uscire? I! No, non venire con noi! Spike! Spike! Ah, buongiorno! Buongiorno! A che piano deve andare lei? Al quinto? Ok, 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 ok! Allora, aspetta che glielo segno! Fa una dieta particolare, vero? Sì, vorrei sapere che dieta è, sa, la trovo molto in forma! Fere? Sento dei rumori strani! Eh, secondo me ci sono cose brutte! Aspetta, ho le cuffie! Ok! Sicurezza! Ascolta! Fere? Non sento niente! Ok! Ma no! Ma che ci fai cadere? Ok, 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 tutto a posto, tutto a posto! Anche Spike sta benissimo! Spike? Eh, con i suoi muscoli, li atterraggi, non ha nessun tipo di problema! Lui li fa tutti i giorni! Ma figuriamoci, bello! Allora, quel warning non mi piace molto! No, sembra più alien! No, no, Fere, 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 mettiti adesso a sinistra! No! Ci porta via! È tipo un buco nero, mi sa! Spooky, spooky, scheletto! Gattini! Ciao, Gatti! Che belli e gattini! Ma che belli che siete! Fere, qualcuno ci sta osservando! No! Io mi giro qua e non guardo nulla! No, Fere! No, 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 lasciatemi in pace! Fere, ha sbucato qualcosa! Fere, c'è una mano! Spike, attento! Fere! Attento! No, Spike! Spike! No! Fere, l'ho portato via! Ma gli avevo detto di stare attento! Poverino, vabbè, meglio lui che noi! Quello è vero, quello è vero! Che ti devo dire! Meglio lui che noi! Ti ricorderemo per sempre, Spike! Torna, magari torna, magari torna! Magari torna! Può essere, può essere! Chissà, magari erano sui amici! D'altronde lui è uno scheletro! Quindi forse era tutto ok! Magari si sta divertendo in questo momento! Non lo so, ne dubito! Sì, sì, sì! Però può essere! Buongiorno, signore! Che bel salvagente che ha! Gary! Gary, buongiorno! Ok! Ok! Ah, ce lo stanno andando al posto di Spike! Ci hanno portato via Spike e ci hanno dato Gary! Un tizio con un salvagente! Con una ciambella! Sta aspettando qualcun altro? Perché sta restando tutto aperto? Scusa! Gary! Gary, puoi parlarci? Il fatto che non parli è che stia guardando in alto, come dire... Ma quando è che arriva il prossimo... E' un altro per sicurezza! Gary! Lasciamolo lì, lasciamolo lì! Meglio non disturbarlo! Dice almeno dove hai trovato quella bellissima paperella salvagente troppo carina! Non è una paperella, è un sottellino! Perché è giallo e pensa alle paperelle! Eh, ma il sottellino era una paperella! Dove hai preso quel salvagente carinissimo, Gary? Dicelo che andiamo a comprarlo anche noi! E soprattutto ci sta per servire col prossimo livello perché affogheremo, Gary? Non parla! Non parla! Non parla! Non vuole dire nulla! È un osso duro, Gary! Puoi solo guardare l'orologio, Fai regola! Però è sempre lo stesso orario che è mezzogiorno e quaranta! Aspetta, che ora è da noi? Oh mio Dio! È giusto l'orario? Ma è una coincidenza perché avevo già visto che c'è l'ora nel gioco! No, è una coincidenza o si sta copiando l'orario? No, è una coincidenza, è una coincidenza! Questa è per te! Questa è per te! Questa è per te! Dove sono le mie cuffie? Questa è per te! Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Mi piace lo spagnolito! E canto le canzoni! En español! E se beviamo la tequila! Sei sempre più ridicolo, io te lo dico! Meno male che ridi di te stesso! Meno male che ridi di te stesso! Che cosa bellissima! Aiutatemi Consolini, aiutatemi a sopportarlo! Ma dai, non è colpa mia! Stai imbitando queste cose? Dai, è il mio punto debole, lo sanno tutti! Oh ma che bella porta! Ferre, ti piace? Oh ma c'è un'altra porta! C'è una musica action! Ferre, ma c'è un'altra porta! E un'altra ancora! Aspetta, magari è l'amico di Gary! Vieni, vieni, vieni! Vieni bello, come ti chiami tu? Dici il tuo nome! Non mi piace però, io mi tengo... Secondo me ora si picchiano! Mi metto un po' a distanza! No, Ferre, leggi il nome! Ho parlato! Cosa ho detto? Non lo so, non l'ho capito! Però ho detto una parola quando è entrato! Hai notato che sta fissando l'altro Gary? Sì! Guarda come lo guarda male! Ferre, dobbiamo aprire le scommesse! Tutti nei commenti iniziate a scrivere! Chi è il vero Gary? Cosa? Chi è il vero Gary tra i due? Esatto! Gary con la ciambella o Gary senza ciambella? Quindi, chi è il vero? Chi è quello vero? Allora, ragioniamo un po'! Comunque io ti dico una cosa! Allora, lui mi sta più simpatico! Ok! Perché ti guarda e fa qualcosa! Lui invece continua a guardare il soffitto imperterrito! Però... E non lo so! A me Gary sembra lui! Quello con il salvagente! Quello con il salvagente! Perché se ci pensi, l'altro Gary è uscito da quattro porte più una prigione! Quindi, anche se sembra più normale... Sì, ma magari è stato il primo Gary con la ciambella a far qualcosa di strano! Il secondo Gary l'ha fatto imprigionare! Capito? Ha preso la sua identità e adesso è tornato il vero Gary! Certamente! Può funzionare! Certamente! Secondo me avremo la risposta quando in un livello verranno rapiti o prelevati e ne verrà preso solo uno di due! Quello che rimarrà sarà il vero Gary! Però ci sono aperte le scommesse! Fere, che cos'è quella cosa che corre verso... L'hai visto? No! Ma perché mi fanno ste cose? Pensavo che fosse un mostro io! Ma per quello mi ha fatto paura! Era ancora peggio! Gary smettila di fissarmi! Lo so che mi sono spaventata, ma non mi guardare male! Girati! Gary dice che non faceva paura! Esatto, esatto! Gary smettila! Sta nevicando! Che bello! Che bello! E quindi cosa succede adesso? È un altro Gary? È una signorina! Brianna! Ciao Brianna! Ciao! Ascensore sta diventando un po' troppo popolato! Che ne dici? Sì, e poi... Aspetta, secondo me ci prelevano un Gary, eh! Perché guarda, vedi che sta restando aperto? Secondo me adesso spunta qualcosa... No, ok! Ok, ok! Ciao Brianna! Ciao Brianna! Allora... Anche lei è un po' antipatica! Guarda solo nella sua direzione! Non ti guarda mai in faccia! Guardala! Sì, sì, è preoccupata! È preoccupata! Guarda sempre da un'altra parte! Quindi non mi piace, non mi piace! Allora... È lui che mi continua a fissare! Mi dà un fastidio! Guarda, mamma mia! Non ti piacciono quando guardano solo in un punto! Non ti piace quando fissa! No, ma ogni volta che ti giri è così che... Ma dico, guardati intorno ma non fissare a me, capito? Quello intendo, quello intendo! Allora, qualche teoria su Brianna! L'universo! I colori! Questa è la spiegazione del mondo! Questi sono tutti gli elementi che rotteano insieme e si sono uniti! Hanno formato i pianeti, le galassie! Esatto! Hai ragione! Esatto, esatto! Lo vedo in questo disegno! Brianna, lo vedi anche tu? Sì, ha detto che lo vede anche lei! Capisco che è un qualcosa di più grande che noi umani e neanche Brianna possiamo capire! Mi sento ispirato, Fere! Mi sento ispirato! Fere! È un altro Gary che sta suonando! Fere! C'è Gary che suona la chitarra! Aspetta! Aspetta che la voglio sentire! Ma Gary è un lentone questo! Cioè, suona qualcosa di più allegro! Senti che c'è pure il mare con le onde in sottofondo, il vento! Ciao Gary! Era il gemello di questo Gary comunque! Allora, secondo me, abbiamo avuto un indizio, Fere! Dimmi! Questi, secondo me, erano i ricordi di Gary! Di quando lui ancora suonava la sua amata chitarra! Prima che Gary con la ciambella lo imprigionasse per prendere la sua identità! Ci siamo capiti! E secondo me, il punto di svolta è Brianna! Però ancora non ho ben capito come! L'ho capito! Dimmi! Erano innamorati tutti e due di Brianna e quindi lui è diventato geloso! Ha fatto imprigionare il vero Gary! Ha preso la sua identità e adesso Brianna è qua! Quindi praticamente Gary suonava la chitarra, aveva dei ricordi... Una festa! Una festa! Andiamo! Dai, fateci partecipare! Dai, almeno alle feste fateci partecipare! Guarda, lo vedi che c'è Gary lì che sta ballando malissimo! Te l'ho detto che sono tutti i ricordi di Gary! Sono altri suoi ricordi di Gary! E vedi Brianna da qualche parte? No! Abbiamo Gary che ha tutti i ricordi, ok? Brianna era innamorata di Gary e stavano insieme! Lui, di cui non sappiamo il nome reale, si è gelosito, l'ha catturato, ha preso il suo nome e si è, diciamo, presentato a Brianna facendo finta di essere il vecchio Gary! Sì, perché poi li vedi sono similissimi! Esatto! Esatto! Dopodiché Brianna ovviamente si è accorta delle differenze che, sai com'è? Sono abbastanza palesi! Lo sguardo sempre rivolto verso l'alto di Gary l'ha tradito! Esatto! E anche la ciambella, secondo me! E anche la ciambella, non ci stava a fare nulla! Perché a Gary vero non piacevano le ciambelle! E quindi Brianna li ha obbligati ad incontrarsi e a discuterne, solo che uno guarda a te, l'altro guarda al muro e nessuno risolve la situazione! Esatto! E quindi lei aspetta sperando che finalmente i due Gary si tristano! Che continuo a fare questa faccia strana e aspetta che qualcuno... È un po' preoccupata! Ha senso! Tu non saresti preoccupata, scusami! Ha senso! Qua c'è una specie di... Prigione! No, è una fabbrica! È una fabbrica! E si chiude! Salve! Grazie! Arrivederci! Vabbè, magari volevi fare un gioretto in fabbrica! Ferè! Vedi quello che vedo io? Oh mio Dio! Ferè! Oh mio Dio! Ferè! Dove? Cosa sta succedendo esattamente? È tutto buio! Non hai visto che si sono aperte le pareti? Sì! Però... Stanno tornando? Ok! Oh mio Dio! Che succede? Io vedo tutto nero, Ferè! Oh mio Dio! No! No! Hanno ucciso il Gary falso! E hanno rubato il suo salvagente, soprattutto! Come? La nostra storia però era giusta! Hai visto che è stata confermata? Ti avevo detto, quando uno dei due... E lui sta parlando! Quello stai dicendo? ...verrà prelevato, sarà il Gary falso! Avevo ragione! Era una premonizione! Non è stato prelevato, è stato ucciso! No, Ferè, 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 Ferè! Questo è... Non è lui, ok? No, è lui! No, no, Ferè! Lo hanno scambiato! Ci hanno dato dei pezzi! E hanno detto, magari vi servono! Noi ci prendiamo Gary! Il suo salvagente! Se volete ricostruire... Come si chiamava lo scheletro? Me lo sono già dimenticato! Magari lo... Può essere! Non ti ricordavi più! È vero, è vero! Potrebbe essere! Però se fosse stato il vero Gary... Ci sarebbero i pezzi del salvagente! Io non ne vedo! No, hai ragione! Quindi non è lui! L'hanno solo preso via! È ragione! E hanno dimostrato che era appunto quello falso! È in ogni caso meglio lui che noi! Ferè, c'è un ninja! No, è un detective! È un ninja, Ferè! È un detective! Detective! Vedi, perché adesso si sta risolvendo un caso... Smettila! ...di Gary e Brianna! Quindi, vedi... No, guarda che ha senso! Ferè, devi smetterla! Ha senso! Adesso vedi è arrivato lui! Sono piani casuali! No, perché giustamente questo Gary è scomparso... ...scomparso... ...e quindi adesso è venuto il detective a dire... ...sì, ti aveva intrappolato! Ha tutto senso! No, non è casuale questa cosa! Io te lo dico, non è casuale! Va bene! Abbiamo avuto ragione fin dall'inizio! Va bene, Ferè, va bene, va bene! Grazie, detective! Hai parlato davvero molto! Io direi che ci possiamo fermare così... ...prima che Ferè e Niki tiri fuori altre cose strambe! E adesso Gary e Brianna potranno finalmente stare assieme! Perfetto, perfetto! E allora, ci fermiamo così! Speriamo che questo video vi sia piaciuto! Questa modalità è davvero fantastica! Non so quanti siano esattamente i piani! E davvero, credo che fossero in modo casuale! Quindi tutto quello che è successo è stata una coincidenza incredibile! Non l'ho inventato! Super inquietante! Aggiungo pure! Speriamo che il video vi sia piaciuto! Fateci sapere se vorreste una seconda parte! Non sappiamo neanche se possiamo farla perché non sappiamo quanti livelli ci sono ancora di questo ascensore! Ma se è possibile fateci sapere se la vorreste vedere! E ci fermiamo così! Fede, ma adesso... Fede, allora... Allora, si chiama il dio lupo! E sta prendendo fuoco! Sta prendendo fuoco! Ed è uguale a Gary! No, non è uguale però! Le assomiglia! Dai, ti faccio, sono diversi! Non sono gli stessi vestiti! Eh, insomma... Secondo me sai chi è? A me sembra Gary dimagrito! No, sai chi è? Ahà! È il collega di lavoro di Gary che anche lui vuole Brianna e adesso che ha visto che stanno assieme sta prendendo fuoco dalla rabbia! Ci scriverò un libro su Gary e Brianna! Ci scriverò un libro! E su Wolfgod ovviamente perché bisogna il nuovo personaggio! Magari per capito per il secondo libro! E ci faccio una saga! Basta! Ci faccio una saga! Bene che ci hai deciso! Senti eci me like! E se la prima volta che vi ho detto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!